Genoa, ufficiale larrivo di Ricci. Luca Rigoni ha deciso, resta. Il Genoa è d'un finale di un mercato incandescente, in un Deadline Day in cui ne abbiamo viste di cotte e di crude, per completare la rosa a disposizione di Ivan Uric in vista del prossimo campionato e con il solito obiettivo della salvezza tranquilla. E' proprio una richiesta non nuova del tecnico è stata appena accontentata dalla dirigenza del Grifone. E' infatti da pochi minuti ufficiale il passaggio di Federico Ricci dal Sassuolo a Rossoblu, reso noto da un comunicato proprio dei Neroverdi, che hanno scritto però solo la formula. Leggiamo quanto reperibile sul sito ufficiale dei Romagnoli, l'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato. Erli Martin 98, difensore, ceduto a titolo di prestito all'FC su Tirol Ricci Federico 94, attaccante, ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Genoa CFC. Si tratterà dunque di prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Gli possiamo dire di più riguardo le cifre, è fissata infatti ad 11 milioni la prima opzione d'acquisto, mentre quella che potrebbe annullarla in favore degli emiliani stanzi a 14 milioni. Una sorta di premio valorizzazione di 3 milioni già messo nero su bianco in favore dei Liguri, che avranno questi soldi solo se rispetteranno il loro compito di far sbocciare il talento del ragazzo scuola Roma, come proprio lo stesso tecnico croato attualmente sotto la lanterna fece a Crotone in Serie B in un'esperienza per entrambi Rosea. Per l'attacco, comunque, il patron preziosi ha ritrovato in questi minuti Luca Rigoni. Nonostante alcuni dissapori con l'allenatore, infatti, l'ex schievo ha preferito rimanere dov'è piuttosto che spostarsi nelle squadre che hanno palesato un forte interesse, ovvero Cagliari e Benevento. Vedremo ora se l'italiano verrà reintegrato in un nuovo ruolo oppure se continuerà ad essere l'equilibratore della squadra com'è sempre stato nell'ultima stagione in Liguria. Grazie per la visione!